Un nome e un cognome per un giovane, giovanissimo, quando è arrivato a Roma, aveva 14 anni, un nome unico, una garanzia, un uomo straordinario che arrivando dalla carattia a Roma ha iniziato con una carriera straordinaria e quindi non potevamo non premiare quest'uomo formidabile. Intanto ancora un applauso, ringraziamo il fotografo della terra, Dolce Vita Romana, il tuo concerto internazionale. Grazie, cosa devo dire? Conoscete già chi è Pepino, chi è Anitec, chi è Anitec, chi è Anitec. Pizza, Ferrari, paparazzo. Io sono orgoglioso di essere un paparazzo. Hai venuto? Se per caso qualcuno si chiamava paparazzo e cavi una denuncia, io invece no, perché sono orgoglioso, perché ho il nome italiano e in tutto il mondo non riescono a indicare gli italiani. Perciò, grazie a Pepino, sono sei anni che aspettavo questo paese. Sono venuto? 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 Anche con lei è comienzo? Grazie. È felicemente, è scontato. Facciamo un applauso. Sì, è felice, è felice, è felice. Grazie.